Io e il collega e amico Berardio Forilli sono stato richiamati dai cittadini dei Colli perché ovviamente in città è risaputo che siamo gli unici che comunque sono interessati ai bisogni delle persone per cui siamo venuti questa mattina nel rione Gescal per attraverso un nostro amico che ci ha condotti qui per farci vedere ovviamente le inefficienze o meglio qualche discrasia della ditta appaltatrice dell'Ater ovviamente noi abbiamo dei buoni rapporti con l'Ater, rapporti istituzionali il Presidente è una persona che ci ascolta che quando chiamiamo ovviamente risolve i problemi per cui ovviamente porteremo già nelle prossime ore all'attenzione quello che oggi troveremo qui in Ater per cercare ovviamente di rimediare alla situazione che è una situazione che vede dopo tanti anni questo rione essere messo a norma dal punto di vista architettonico e dei lavori ma è che in realtà ovviamente non viene fatta dopo la d'arte quindi qui ci vuole un controllo serrato, un controllo importante, un controllo serio da parte dell'istituzione in questo caso dell'Ater che mi sembra che sia un po' evanescente dal punto di vista soltanto e esclusivamente dei controlli ci hanno mandato delle foto, avete fatto delle riprese, potete vedere e constatare con i vostri occhi che cosa avete trovato qui stamattina pur non essendo un esperto, un geometra devo dire che ad occhio è palese che alcune opere siano state fatte diciamo un po' con superficialità, questo ci dispiace perché questo è un bellissimo complesso in una zona molto bella della città, c'è tantissima brava gente, molto dignitosa, tanti lavoratori che vorrebbero abitare semplicemente in maniera dignitosa allora quando si spendono dei soldi e lo si fa in maniera sbagliata è la cosa peggiore perché ci sono soldi buttati, qui i soldi ci sono, ci sono per fare dei lavori i lavori vengono fatti bene, chiediamo che chi è deputato a questo venga sul luogo si renda conto personalmente perché basta vedere anche a un occhio inesperto che alcune cose sono fatte un po' grossolanamente e probabilmente sono state trascurate